Allora, buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti, siete veramente numerosi. Avviso per gli altri 50 che sono fuori che ripeteremo domani sera, la serata. Scherzi a parte, veramente grazie. È un piacere avervi qui tutti quanti. Questa serata è dedicata per l'illustrazione del nostro programma elettorale. L'abbiamo accennato in altre occasioni a grandi linee. Oggi l'avete tutti quanti in mano, è stato pubblicato. Credo che anche l'opuscolo sia venuto bene e la cosa ci fa piacere. E adesso andiamo a illustrarlo perché di cose da dire ci sono veramente tante. Allora, innanzitutto vedrete nell'opuscoletto che ci sono due paginette che sono praticamente una lettera che abbiamo deciso di fare come gruppo ai cittadini residenti e votanti a Temù, che però non sono in pianta stabile residenti a Temù. E allora, proprio per il motivo che probabilmente non tutti mi conoscevano, sul suggerimento del mio gruppo ho voluto fare questa lettera, condivisa chiaramente con tutti, per farmi conoscere e credo che la cosa sia stata molto apprezzata perché io ho avuto personalmente diverse telefonate, diverse persone che hanno voluto conoscermi e vuol dire che abbiamo colpito nel segno. Poi parte con una, alza la voce, eh no, questo è il microfono ma per la televisione, purtroppo, vabbè io cercherò di parlare più alto possibile, poi fin quando ce la faccio, poi andrà avanti qualcun altro. No, ecco, dicevo, nel libretto poi partiamo con, diciamo, una lettera che vuole essere una presentazione del gruppo e ve la leggo perché secondo me vale la pena leggerla. La lista civica Cambiamo Temù nasce dalla passione per il nostro Paese e dalla condivisione di un forte desiderio di ridare all'istituzione del Comune la serietà propria di un ente che deve essere un credibile punto di riferimento per tutti i cittadini. Proponiamo una squadra rappresentativa delle tre comunità che unisce l'entusiasmo di volti nuovi alla saggezza di chi ha avuto esperienza non solo in campo politico ma anche in ambito turistico. La nostra squadra sarà composta solo da persone votate e non da figure esterne. E qui vi spiego meglio il concetto. Noi non abbiamo voluto fare degli assessori esterni e tanto meno dei prosindaci perché crediamo che una squadra composta da 11 persone di cui 8 eventualmente, se le cose vanno bene, saranno elette saranno in grado chiaramente di supportare il sindaco nelle sue decisioni e nell'operatività che sarà veramente tanta e che necessita per amministrare bene un Comune come il nostro. Non abbiamo bisogno di persone che non vengono elette e che non hanno deciso di mettersi alla prova del voto dei cittadini. Questa è stata una scelta ben precisa, condivisa da tutti. Allora, il nostro programma intende puntare allo sviluppo di tutte e tre le comunità impostando un modello amministrativo maggiormente legato al territorio e alla cura dell'ambiente. Ce n'è veramente tanto bisogno. Abbiamo un patrimonio naturalistico delle mille risorse che crediamo debbano essere valorizzate e sfruttate nelle sue potenzialità. Vogliamo rappresentare una politica nuova, vicina ai cittadini, veri protagonisti della vita amministrativa e attenta alle esigenze del Comune e del territorio, a partire dalle opere ordinarie e di urgente necessità. Perché voi capite che se verremo eletti non abbiamo la bacchetta magica, sono tante le cose da fare, inevitabilmente parteremo con le cose più urgenti da fare e probabilmente anche quelle più facili da realizzare, proprio per dare un segno di operatività di questa nuova amministrazione. Ogni punto del nostro programma ha l'obiettivo di portare beneficio ai cittadini, al sistema turistico e all'immagine del nostro Comune. Mettiamo a disposizione il nostro tempo, le nostre competenze, con semplicità e tanta passione, convinti che l'alternanza sia uno degli aspetti alla base della democrazia. È inutile che vi legga poi l'invito al voto, perché, vabbè, quello lo diamo per scontato. Votateci! Allora, partiamo col primo capitolo, che è anche il più numericamente importante, ma non è il solo importante del nostro programma. Capitolo turismo. Rilanciare il turismo del Comune di Temù attraverso un percorso facilitato, atto alla realizzazione di nuove strutture ricettive rivolte all'ospitalità turistica. Verranno riconosciute ulteriori facilitazioni a chi intende convertire nei centri storici di Temù, Pontagna e Villa d'Allegno vecchie unità abitative in locali, commerciali, in B&B, Garni o Residence. In parole povere, chi vorrà ristrutturare la propria abitazione o un'abitazione di proprietà, il Comune avrà tutte le attenzioni e le facilitazioni possibili affinché questo possa essere realizzato. Soprattutto nei centri storici, perché rischiamo che i centri storici, vabbè, le abitazioni invecchiano e rischiamo che poi questo degrado diventi un pochettino dannoso all'immagine dell'intero paese. Promuovere e incettivare un percorso virtuoso di albergo diffuso, con un booking centralizzato presso l'ufficio della Proloco, con l'obiettivo di riqualificare, catalogare e gestire con una vera e propria agenzia di viaggio l'affittanza di appartamenti annuali, stagionali e soprattutto settimanali, con lo scopo principale di incrementare i flussi turistici nel nostro Comune e creare un reddito per le valli e famiglie. Anche qui spendo due parole. Albergo diffuso è un qualcosa che sta prendendo piene sull'arco alpino, ma non solo, anche in altre località turistiche. Cosa vuol dire? Se ci sono degli appartamenti e il proprietario ha voglia, volontà, necessità di affittare questo appartamento, se lo fa da solo e l'ha sempre fatto e ha un reddito che lo soddisfa, continui pure a farlo. Se ha delle difficoltà, attraverso la Proloco noi andremo a catalogare tutti questi appartamenti, a classificarli, a creare un book, cioè un libro, dove oltre all'indirizzo, ai recapiti telefonici, metteremo alcune fotografie e soprattutto quello che l'appartamento offre, cioè la descrizione dell'appartamento, sia un bilocale, sia un trilocale, con tutte le attrezzature che sono a disposizione, dalla lavastoviglia alla lavatrice al ferro da stiro, sto parlando di cose ovvie, ma che non sono proprio del tutto scontate. E andremo anche a classificarlo e lo metteremo chiaramente in commercio. La Proloco avrà una copertura da parte di un'agenzia di viaggio che permetterà alla Proloco di fare questa operazione, perché chiaramente questa è un'operazione alla luce del sole, soggetta a tutte le tassazioni possibili e immaginabili, che però secondo noi potrà dare nel giro di tre anni, perché questi sono progetti che hanno un tempo temporale, passatemi il gioco di parole, minimo di tre anni per poter vedere e pesare i risultati. E non daranno fastidio a nessuno, perché saranno un incremento dell'afferta ricettiva del nostro paese. Quando parlo paese parlo chiaramente di Temu, Pontagna e di Villa d'Alegno. Riorganizzare la Proloco dovrà operare a stretto contatto con l'assessorato al turismo del nostro paese. Perché dico l'assessorato al turismo? Perché vogliamo creare anche un assessorato al turismo? Proprio perché rapportandosi sull'esterno l'assessore al turismo ha un peso diverso, se oltretutto affiancato dal presidente della Proloco e da chi lavora alla Proloco, soprattutto sull'esterno ha un peso diverso e una penetrazione diversa. Allora, il nostro paese è per promuovere in maniera incisiva la destinazione turistica, organizzare eventi e manifestazioni di qualsiasi tipo ed essere un importante punto informativo e gestionale. Cioè sarà un punto di informazione sempre, sette giorni su sette, con orari continuati, importanti e anche gestionale, perché se dovrà gestire la prenotazione di eventi, l'organizzazione di eventi e soprattutto anche il discorso appartamenti, dovrà essere anche gestito in maniera attenta e oculata. Analizzare attentamente la possibilità di realizzare una pista da fondo e un anello per ciaspolatori partendo dalla casera sino in fondo valle, per completare l'offerta turistica invernale. Qui abbiamo un problemino che è dato dall'innevamento. Oggi come oggi non ci sono le risorse per dotare questo anello di un innevamento programmato. Dovremo valutare attentamente le risorse che il Comune avrà. Se non viene neve dal cielo, organizzare una cosa di questo tipo sarà un pochettino difficile. Però non disperiamo, perché abbiamo la fortuna di avere anche comunque il Valdavio, che bene o male ha sempre una certa portata d'acqua e con i cannoni da neve, con le pompe che hanno oggi, si può pescare direttamente dal torrente e sparare neve. Oggi come oggi però, come vi dicevo, abbiamo delle difficoltà per andare a piazzare quattro barra cinque cannoni da neve su un anello che parte dalla casera, arriva fino in fondo a Valsozzine e ritorna. Valdavio. Vabbè. L'anello di fondo adesso c'è in Valsozzine, perciò l'Apsus. Rendere il campo da calcio sempre più volano e strumento di promozione turistica, per incrementare i flussi derivanti dei vari ritiri delle squadre di calcio ed eventi collegati. E anche qui mi spiego meglio. Van bene i ritiri, squadre di serie A, se ci sono anche altre squadre vanno bene, però credo che sia di fondamentale importanza promuovere questo ritiro sul territorio della squadra di calcio. Cioè voglio dire, se ospitiamo il Monza, vabbè, il consorzio Ponte di Legno Tonale, che coordina queste attività, dovrò fare delle promozioni incisive su quel territorio, andando a promuovere le opportunità di soggiorno sul nostro territorio, che sia Temù, Ponte di Legno, Paesi Limintrofi, ma delle azioni promozionali ad hoc, perché è inutile ospitare la squadra di calcio e sperare che ci sia un mordi e fuggi di turisti sportivi, tifosi, che vengono in giornata, bevono due birre, mangiano una pizza e se ne torneranno a casa loro. Direi che l'investimento del campo da calcio, solo per questo, non ne vale assolutamente la pena. Dobbiamo sforzarsi di andare in quella direzione. Riqualificare l'intera area Saletti, con la speranza di poter realizzare il nuovo palaghiaccio, grazie al contributo di 3 milioni da parte della regione Lombardia. Il tutto è fortemente condizionato dalle varie tempistiche. Entro la fine del mese di ottobre dovremo essere in grado di presentare il progetto definitivo, dopo aver acquisito le aree interessate, che oggi non sono ancora acquisite, presentare un progetto definitivo dopo aver acquisito le aree interessate, aver presentato il capitolato di spesa che non deve superare l'ammontare del contributo. È un progetto gestionale, credibile, sostenibile, pena la perdita del contributo. In parole povere, abbiamo già dialogato, io personalmente ho dialogato, con l'assessorato di competenza. Ho ancora delle rimembranze, da quanto frequentavo quasi quotidianamente la regione Lombardia, quando ero direttore di Adamello Schi, e ho trovato ancora dirigenti con i quali avevo chiaramente un ottimo rapporto. E il discorso del responsabile è stato chiarissimo. Proprio perché il Comune di Temù è stato commissariato, noi siamo in grado di aspettare il vostro progetto, il vostro capitolato di spesa, fino alla fine del mese di ottobre. Ma deve essere un capitolato, è un progetto definitivo. Altrimenti i 3 milioni che la regione Lombardia ha avuto dal governo per il progetto Olimpiadi Cortina 2026 se ne tornano a Roma. Io qui voglio essere chiaro, perché non voglio raccontare, non le ho mai raccontate, non le racconterò mai bugie. Tantomeno in campagna elettorale. Non l'ho mai fatta, ma ho sempre operato e ho sempre avuto contatto con la gente. Io bugie non ne ho mai fatte, dette. Perciò vi dico come stanno le cose. Noi abbiamo e stiamo spingendo per poter ottenere questo famoso pallaghiaccio. Però allora dobbiamo litigare col tempo e soprattutto con l'acquisizione delle aree e tutto il resto. Rapportarsi in modo costruttivo con gli enti che gestiscono gli impianti sciistici. Il Comune di Temù deve essere attore protagonista nelle scelte operative e gestionali sia al Consorzio Ponte di Legno Tonale che alla SIT, due organismi fondamentali per il futuro turistico dell'Alta Valle Camonica. Qui apro un breve capitolo perché non so se tutti hanno avuto occasione di vedere il filmato dell'Assemblea della SIT e il filmato che è andato in onda alle 19 del confronto che ho avuto io con Corrado Tommasi. Il dibattito che ha sollecitato Corrado Tommasi e l'abbiamo fatto mercoledì registrato, è andato in onda questa sera, andrà in onda ancora domani sera alle 19 per due volte di fila, perciò dalle 19 alle 20 e 10 e poi altri 60-70 minuti. Dove è emerso ancora questo concetto? E voglio chiarire un concetto semplicissimo, ma a voi lo devo come l'ho dovuto al mio gruppo e voglio chiarire che non c'è nessun rancore, nessuna voglia di rivalsa, è solo questione di buon senso e di avere amore per il proprio paese. Allora, Corrado si è anche meravigliato che dopo 15 anni io sono andato all'Assemblea della SIT e l'ha anche detto, probabilmente perché sei candidato sindaco, ma logica. Io comunque dico, sono candidato sindaco, se vengo eletto sarò sindaco, se non vengo eletto sarò consigliere comunale. E quello che ho detto in Assemblea alla SIT, dove ho chiesto chiarimenti su un bilancio della SIT che prevede passività di 51 milioni e mezzo di euro, con un utile di fatturato, un utile post-imposte di 253 mila euro. Fatturato consolidato, cosa vuol dire? In quel fatturato consolidato c'è il fatturato della SIT e di tutte le sue compartecipate, i vi comprese le centraline che dovrebbero dare utili e le avranno date probabilmente, ma i vi compreso anche le famose terme di Ponte di Legno, che sono chiaramente di proprietà della SIT e che ha già messo 14 milioni di euro e che continuerà a metterli. Oggi come oggi il debito è di 51 milioni e mezzo, ma nelle elencazioni che Mario Bezzi ha fatto nella sua relazione all'Assemblea, citando le terme, i nuovi impianti a cima sorti, il nuovo impianto del corno d'aula, dalle cifre che lui ha detto, detraendo i contributi pubblici, c'è un disavanzo di 100 milioni, 50 più 100 fanno 150 milioni. Allora io ho dovuto intervenire e far presente questo fatto e chiedendo come pensi di coprire quei debiti, perché le terme, è inevitabile che bisognerà finire in qualche modo e saranno le terme più costose d'Europa. Lo sanno tutti, lo dicono tutti e io lo dico pubblicamente, saranno le terme più costose d'Europa. Non entriamo poi nel merito della gestione perché lì apriti o cielo, ma lasciamo perdere la gestione. Ma gli impianti di cima sorti, vabbè, non sono ancora stati realizzati, è ancora un progetto in itinere e la mia preoccupazione è questo. E perché del mio intervento? Perché se non intervenivo alla SIT, io comunque questo argomento, o da sindaco o da consigliere comunale, lo tirerò fuori fra un mese in comune. Perché dobbiamo ricordarci che il comune di Temù, il secondo azionista della SIT, ha messo sul piatto 2 milioni e 600 mila euro. E non sono pochi. Allora voglio dire, di cosa ti meraviglia che io evidenzi queste cose qua? E mi meraviglio io ancora di più dalla risposta che ho avuto. Se il consorzio Ponte di Legno Tonale riuscirà a incassare 3 milioni di più nei prossimi anni come incasso, che potrebbe essere anche fattibile, vuol dire che alla SIT, che rappresenta più o meno il 50% del fatturato, va un milione e mezzo in più all'anno. E la risposta del Mario Bezzi è stata che con un milione e mezzo non riuscirà a pagare tutti quei debiti. Allora, voglio dire, parlando di interessi, solo gli interessi non riuscirà a coprire con quel milione e mezzo. Allora io devo essere preoccupato, l'ho detto e qui lo ribadisco. E l'ho detto anche nel confronto, se non l'avete visto lo vedrete, che se sarò eletto sindaco, io loro, l'ho detto dal primo giorno, gli incarichi che sicuramente andrò ad occupare come sindaco, sarà quello di rappresentante del Comune di Temù all'interno della SIT e rappresentante del Comune di Temù all'interno del Consorzio Ponte di Liantonale, che l'ho scritto anche qui, sono i due organi più importanti che debbono fare turismo, ma turismo in un certo modo in Alta Valle. E io voglio essere attore protagonista come Comune di Temù in quello. L'ultimo punto che abbiamo descritto, riqualificare la pista ciclopedonale in collaborazione con l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, ponendo particolare attenzione al tratto Pontagna-Temù, che ha diverse problematiche. L'attraversamento del paese di Pontagna, il percorso attraverso il fiume che è franato in due posti, sono tante le problematiche. Dobbiamo cercare soluzioni idonee alle esigenze dei numerosi frequentatori e dei nostri concittadini, anche perché i nostri concittadini utilizzano o per la passeggiata o per la biciclettata quella pista ciclabile. Allora, riqualificazione territoriale. Anche questo è un bel capitolo. riqualificare e rilanciare nella sua complessità la Val d'Avio, da Malga a Caldea sino ai laghi Avio, che potrebbero diventare una vera e propria attrazione turistica. Realizzare aree attrezzate, percorsi pedonali e di mountain bike, con particolare attenzione a disabili, famiglie di persone di terza età, un target di clientela adatto alla nostra destinazione turistica, perché d'estate si vedono tante persone della terza età che frequentano il nostro paese. Sistemare i nostri boschi devono essere accuratamente puliti e manutentati attraverso una riqualificazione dei vari sentieri. Inutile dire, lo verificate tutti i giorni, che oggi praticamente è impossibile entrare nel bosco. Rischio suicidio. Di tutte le strade agro-silvo-pastorali, patrimonio inestimabile del nostro territorio. Rivedere i rapporti tramite convenzione con il Consorzio Forestale Due Parchi. Prevedere inoltre una graduale piantumazione delle aree distrutte dal Bostrico, incentivando sempre più momenti aggregativi e sensibilizzazione come la festa degli alberi, che già le scuole fanno, vorremmo renderla ancora più partecipata. Trasformare la maga di Prisigai in un rifugio e conseguentemente rivalutare la rete sentieristica e dei manufatti della Grande Guerra, anche qui una grandissima opportunità, perché chi turista viene portato in quei luoghi rimane a bocca aperta. E la prima domanda è, ma come avete fatto a nascondere questo ben di Dio, che è veramente un qualcosa di eccezionale e potrebbe diventare veramente una motivazione di vacanza estiva. Ripristinare e segnalare i principali sentieri e mulattere attraverso i centri abitati, anche quelli con estensione comprensoriale, tipo la Carolingia, sia pedonali che con mountain bike. Creare nuovi percorsi ad anello e o tematizzati, dove ci sono dei temi, creare dei percorsi per anticipare e andare a sfruttare questi temi. Fra un po' ti faccio leggere. È fortunata mia moglie che stasera non mi sentirà brontolare. Urbanistica. Esaminare attentamente il PGT in vigore, valutando le possibili varianti da effettuare per favorire i nostri cittadini nella realizzazione della prima casa, nella ristrutturazione degli edifici nei centri storici e favorire l'apertura di locali commerciali e di strutture turistiche ricettive. Richiamo un po' quello che avevo già accennato nel discorso turistico. Riqualificare, provvedere alla manutenzione collaborando con la cooperativa Stella Alpina ed abbellire l'arredo urbano a Villa d'Allegno, Pontagna e Temù, con il preciso impegno di recuperare edifici storici e culturale come il Molino di Prospero e la Casera di Molina. Ci impegneremo affinché la pulizia e le piccole manutenzioni diventino costanti del nostro modo di amministrare. Cioè è inutile che spenda parole qui, un paese pulito piaccia a tutti e la pulizia di un paese ci vuole un po' di impegno, un po' di manodopera, ma non grandi spese, ci vuole impegno, costanza e manodopera per fare. Infrastrutture e servizi. Sistemare in modo ordinario e straordinario i nostri acquedotti con realizzazione di nuove captazioni, vasche di accumulo e conseguente potenziamento delle condutture. Sistemare attraverso opere di ordinaria e straordinaria manutenzione l'impianto fognario dell'intero comune. Eseguire uno studio di fattibilità per la strada denominata Cimitero a Villa d'Allegno, così da migliorare e rendere più sicura la viabilità all'interno del centro abitato. Predisporre un piano di sicurezza generale con particolare attenzione alla viabilità sulla strada statale 42 e nei vari centri storici del nostro comune. Oggi, all'interno soprattutto di Temù e Pontagna, la strada 42 spesso e volentieri diventa quasi una pista di velocità per chi passa in macchina o in moto. Potenziare e adeguare l'isola ecologica intercomunale con orari di apertura prolungati e apertura per le numerose partite IVA che operano sul nostro territorio e che oggi come oggi non hanno la possibilità di accedere all'isola ecologica. E mi sembra una sciocchezza, mi sembra. Assistenza e benessere sociale. Incentivare l'associazionismo e il volontariato coinvolgendo giovani e non. A favore delle persone bisognose e in generale per la crescita della nostra comunità e del tessuto sociale. Favorire la nascita di cooperative atte alla realizzazione di nuovi alloggi per tutti coloro che desiderano costruire la loro prima casa. Il comune dovrà individuare aree edificabili di sua proprietà e cederle a prezzo simbolico a queste cooperative. Il comune favorirà la nascita di queste cooperative e seguirà tutto l'iter con chi vorrà creare queste cooperative per facilitare la realizzazione di queste abitazioni. Potenziare sempre più i servizi rivolti agli anziani del nostro comune, come l'assistenza domiciliare, il trasporto verso centri di prevenzione e cura, la consegna dei pasti a domicilio e l'organizzazione di attività ricreative e culturali. Un occhio di riguardo dovremmo necessariamente averlo per la casa di riposo Fondazione Monsignor Giacomo Carrettoni, che sta attraversando un periodo problematico sotto l'aspetto gestionale ed economico. Per i nostri anziani avere una casa di riposo funzionale ha tutte le loro esigenze e di fondamentale importanza per l'intera comunità, in collaborazione con l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica. Creare un fondo economico strutturale che permetta nuovi investimenti dei servizi all'interno della struttura. Oggi la casa di riposo Carrettoni chiude ogni anno con un deficit sempre più pesante. E dovremmo chiaramente pensare di dotare di un fondo strutturale come Unione dei Comuni, in proporzione chiaramente alla capacità del gettito fiscale che ogni comune ha. È chiaro che sotto questo aspetto Ponte di Legno, Vezzadoglio, Temù dovranno dare di più rispetto che Avione, Monno e Incudine, ma dovranno tutti quanti partecipare a questo fondo strutturale, se no la casa di riposo non sta in piedi. Pena l'avvenuta, cioè la mancanza di attività e di assistenza che diventa sempre più costose. Oggi se abbiamo lì questa casa di riposo dobbiamo comunque mantenerla efficiente e operativa. Giovani, scuole e istruzione. Analizzare con molta attenzione la situazione delle nostre scuole, attraverso un dialogo serio e costruttivo con i genitori dei nostri alunni e in particolar modo con l'Istituto Compressivo di Ponte di Legno e con l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camondi, con lo scopo di individuare la soluzione migliore per i beni dei nostri ragazzi. Cosa voglio dire? Oggi a Temù abbiamo una pluriclasse, vabbè con otto bambini, 17, otto in a Monno, 17 bambini per le cinque classi. Allora, noi intendiamo aprire un dialogo con i genitori. Se i genitori sono contenti di questa situazione qua, noi manteremo la pluriclasse a Temù. Se i genitori manifestano la volontà per una questione di istruzione, di facilitazione, di inserimento dei propri figli in quel di Ponte di Legno, perché uno che esce dalla quinta di Temù, quanti sono i ragazzi oggi che fanno la quinta a Temù? Sei. Si troveranno, dico, l'anno prossimo a Ponte di Legno in una classe di 25, un po' spaesati, voglio dire, perché sono tutti chiaramente compagni nuovi e che dovranno. Però, ripeto, noi intendiamo fare un sondaggio con i genitori, capire qual è la loro esigenza, qual è la loro volontà e perseguire questa esigenza e questa volontà. La medesima attenzione deve essere posta anche ai ragazzi che frequentano in valle i vari istituti superiori e in città le università e che frequentano situazioni logistiche e abitative spesso complicate. Compito nostro sarà quello di individuare le migliori soluzioni per rendere meno oneroso i loro trasferimenti. In questo ambito, ulteriore obiettivo dalla nostra amministrazione sarà potenziare i servizi offerte della nostra biblioteca. Vogliamo potenziare i servizi della nostra biblioteca, con aperture più giorni alla settimana, con orari più lunghi, perché ci è stato chiesto e siamo contenti, dico, che venga avanzata questa richiesta. Riqualificare tutte le aree giochi del Comune di Temù, adibite ai nostri bambini, affinché possano diventare luoghi sicuri di incontro e svago per le varie famiglie che desiderano passare momenti liberi all'aria aperta. Sappiamo perfettamente che il parco giochi spesso e volentieri diventa un momento aggregativo e dei bambini e delle mamme che accompagnano i bambini in questi parchi giochi. Con la collaborazione dei nostri giovani promuovere spettacoli musicali e culturali per ridare vita alla socializzazione tra residenti, valigiani e turisti. E qui si riallaccia al discorso della Proloco. Quest'anno sarà difficilissimo perché le elezioni, cioè il sindaco verrà nominato l'undici. Prenderà la carica una settimana dopo? Siamo oltre metà giugno. Mettere in piedi un cartellone di manifestazioni estive? Sarà difficile, cercheremo di fare il massimo. Portate pazienza, cominceremo già a lavorare per l'estate prossima, perché capite che purtroppo i tempi sono quelli. Ultimo capitolo, ambiente e risorse. Effettuare uno studio particolareggiato atte al corretto sfruttamento delle nostre risorse naturali, del nostro territorio, in collaborazione con l'Università della Montagna di Edolo, predisporre uno studio dettagliato solo a possibilità di sviluppare un'agricoltura di montagna adatta al nostro territorio, valorizzando le attività già presenti e incentivandone di nuove. Obiettivo finale dovrà essere creare un'ulteriore forma di turismo legata al territorio, alle sue tradizioni e alle sue peculiarità. Agricoltura di montagna dovrà essere sinonimo di cura del territorio. È chiaro che se avremo la fortuna di sviluppare ulteriormente questa agricoltura di montagna, troveremo i prati sfalciati, troveremo la cura del territorio, perché l'agricoltura ti porta a curare il territorio e sarà un bel vedere per tutti. Io per ora ho terminato. Passo la parola eventualmente a qualche consigliere che vorrà ulteriormente spiegare alcuni concetti del nostro programma e poi passo la parola a voi. E voi avete due possibilità. Se volete essere inquadrati dalla telecamera, vi chiedo di alzarsi, di venire qui davanti e di parlare al pubblico e sarete inquadrati. Se non avete piacere di essere inquadrati, alzate la mano e l'hostess di turno, quello più vicino, porterà il microfono e parlerà da seduto dov'è. Grazie. Un saluto a tutti i numerosi presenti. Volevo fare due parole per l'elettorato di Villa che... Devi alzare la voce perché quello serve solo per la telecamera. Volevo fare una considerazione riguardo all'elettorato di Villa che è il più ostile alla lista di Bosco. Sapete che noi abbiamo fatto la scelta di nominare Sindaco Bosco e Vice Sindaco Fabio. Quindi volevo dire ai cittadini di Villa d'Alegno che anche se non avremo l'assessore perché verrà nominato fra i più eletti dei candidati di Villa e Temù. Sì, Villa e Pontagna. Non verrà lasciata fuori Villa perché è sempre stato un grosso punto di riferimento per la finanza del Comune di Temù attraverso gli oneri di urbanizzazione negli anni passati e continuerà ad esserlo. Di conseguenza i soldi che verranno presi dal territorio di Villa d'Alegno verranno rinvestiti anche sul territorio di Villa d'Alegno. Come del resto sono stati fatti nelle amministrazioni passate. Rimanendo sul tema vorrei dire due parole sulla stradina denominata Cimitero. Allora, vorremmo andare a rispolverare quel progetto che fa già parte anche del PGT. Praticamente sarebbe una variante per bypassare il tratto di centro storico che va dalla piazza della chiesa fino alla parte alta del paese. Adesso le macchine sono sempre più grosse e quindi è sempre più complicato per uno che viene da fuori e non è molto pratico a fare questi tratti di strada. È sempre più difficile percorrere queste strade, soprattutto quando ti trovi a dovere fare marcia indietro per lasciare il passaggio a un'altra macchina. Quindi è che sarebbe buona cosa fare quest'opera. Praticamente collegherebbe la via Antica Pieve che sarebbe quella della piazza per andare a fare dietro al cimitero facendo un tornante e ricollegandoci alla via Castello e la via Alpi. Questa opera avrebbe una doppia valenza. Sia avrebbe la valenza del collegamento della strada più ampia, in più sarebbe anche alloggiamento di nuovi posti auto che sono sempre carenti e visto le varie macchine che abbiamo sempre in stagione, soprattutto è sabato e domenica, dovremmo riuscire a fare quest'opera qua. Quindi vediamo un po' cosa salterà fuori. Dopodiché dovremmo contattare circa 7, 8, 10 proprietari dei terreni che sono sopra al cimitero in un'area che peraltro è già di per sé paralizzata per il vincolo che pone il cimitero. A nord-ovest del cimitero il comune è già proprietario di una buona fetta di aria che casomai, anche se non ci fossero le risorse adesso per realizzare un parcheggio, si potrebbe ampliare negli anni a venire. Quindi per Villa d'Alegno la vedremo come la priorità più imminente da fare. Quindi faccio un appello a quanti non credono alla lista vostro che c'è invece da crederci. Quindi ci impegneremo a portare avanti queste opere. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti così numerosi anche a questa nostra seconda serata dopo l'ottimo successo grazie alla vostra partecipazione che avevamo avuto il 27 marzo scorso nella serata di presentazione della nostra lista al cinema. E' già stato detto tutto da Francesco anche perché vi ha letto, nonché illustrato in modo dettagliato il programma che tra l'altro vi verrà distribuito casa per casa nei prossimi giorni. Qui ce ne sono già un po' di copie se qualcuno le volesse prendere non ci sono problemi. Quindi avrete modo sicuramente di approfondire e leggere quanto da noi scritto e quanto è nostra intenzione portare avanti qualora vincessimo queste elezioni nei prossimi cinque anni. Volevo semplicemente soffermarmi un attimo, non l'abbiamo fatto nella scorsa riunione né adesso, sul nostro logo. Il nostro logo che è molto esplicativo rispetto a quello che è il nostro pensiero e rispetto a quello che noi vorremmo e nel modo in cui vorremmo amministrare questo comune. Innanzitutto vedete il nostro logo possiede tre montagne che quindi insomma richiamano il nostro territorio ma allo stesso tempo vanno a richiamare i tre borghi che compongono il nostro comune quindi Temù, Ponte di Legno e Pontagna e Villa da Legno. Il nome che poi abbiamo dato alla nostra lista è Cambiamo Temù con la A di Cambiamo, la seconda A di Cambiamo maiuscola, quindi Cambiamo Temù. Perché del resto questa è la nostra filosofia. Vogliamo dare una politica diversa, nuova rispetto a quella che è stata negli ultimi anni e ovviamente il tutto come denominatore comune, il grande amore che abbiamo per il nostro comune, per il nostro territorio e per tutti i nostri cittadini. Quindi abbiamo fuso in qualche modo queste due parole. Poi abbiamo indicato appunto i nomi delle nostre borgate e nella parte bassa abbiamo inserito Bosco Sindaco. Nel dibattito citato da Francesco all'inizio del suo intervento e durante il suo intervento siamo stati accusati che mettere il nome del sindaco all'interno del luogo è esemplificativo del fatto che noi vogliamo un uomo solo al comando. E detto da Corrado Tomasi fa alquanto sorridere, permettetemelo. No, noi pensiamo... Noi pensiamo invece che l'aver messo Bosco Sindaco nel nostro logo, così come fanno anche tanti partiti a livello nazionale, è perché siamo orgogliosi di avere Bosco come nostro candidato sindaco. E siamo orgogliosi sia come suoi candidati consiglieri, ma ancora di più come cittadini del comune di Temù. Quindi questa è la nostra scelta. Del resto non vorrei sbagliarmi, ma non mi pare che Francesco Bosco oggi occupi poltrone di importanti società, consorziate o quant'altro, dal tonale a Darfo. Ci tenevo a dire questo, noi siamo una squadra, una squadra dove tutti avranno e hanno una loro responsabilità, dove tutti remeranno nella stessa direzione e Bosco sarà lì, sarà il nostro faro, il nostro punto di riferimento per noi nell'imparare anche da lui come fare a gestire la cosa pubblica e per ognuno di voi cittadini, quale punto di riferimento molto importante. Quindi l'8 e il 9 giugno, votate, cambiamo Temù, grazie. Allora adesso la parola a voi, se c'è qualcuno che vuole intervenire, alza la manina. Walter Belotti, lui non ha vergogna di mostrarsi alla telecamera. Assolutamente, io volevo solo ringraziare tutti i componenti di questa squadra che da mesi si stanno impegnando, che hanno fatto il quadrato attorno alla figura di Bosco, ringraziare Francesco Bosco perché ha dato la sua disponibilità a candidarsi come sindaco e stiamo lavorando da diversi mesi per far sì che questa squadra arrivi a raggiungere quel traguardo che speriamo si possa raggiungere, che è quello di vincere queste elezioni e cambiare Temù, proprio come è stato detto, cambiamo Temù. Voglio fare anche una precisazione che riguarda Tomasi Corrado. In diverse occasioni ha continuato a parlare citando il sottoscritto e mettendo tra virgolette quelli del museo. Ma io voglio precisare una cosa importante. In questa campagna elettorale io sono Belotti Walter come singolo cittadino. Io non rappresento il museo della guerra bianca pur essendo il presidente. I membri, i soci del museo della guerra bianca possono avere idee diverse da quelle del presidente, ci mancherebbe. Io non rappresento il museo in questa campagna, è bene che si sappia, perché altrimenti sembra che il museo porti avanti questa battaglia fine a se stesso. Assolutamente no. Io sono Belotti Walter. Grazie. I primi tre che intervengono hanno come premio la possibilità di distribuire tutti quanti il programma elettorale. Forza qualcun altro? No, diceva Walter. No, dico io. Promettete a tutti, ma siete tutti uguali. Io dicevo un'altra cosa. Allora diceva Walter che è tanto che stiamo lavorando. Noi effettivamente ogni settimana ci troviamo qui nella saletta a fianco, oltre che per mangiare e bere, perché si mangia e si beve poi alla fine. Però è stata veramente una bella esperienza, nel senso che abbiamo condiviso tutto. Quello che trovate letto qui l'abbiamo chiaramente, dico, condiviso, perché è fuori dubbio che non solo noi undici, ma anche quelli strettamente vicini al gruppo, e siamo 25 persone, 30 persone che hanno condiviso e hanno portato il loro contributo verso questa visione. Ed è stata una visione univoca, unitaria, con un indirizzo ben preciso, che l'ha chiarito bene sia Walter che Fabio. E anche per me chiaramente è stata una bella esperienza, perché, vabbè, lo sapete, è la mia prima esperienza amministrativa. Io non mi ero mai avvicinato alla politica, ho sempre fatto il manager, che è un lavoro un po' diverso. Però so di cosa stiamo parlando, so che necessità è il comune di Temù, perché l'ho vissuto. Voglio bene a questo comune, perché ho fatto anche la scelta di portare la cittadinanza qui. La mia storia professionale, credo, abbia parlato chiaro, sia quando ho operato a Temù, sia quando ho operato a Madonna di Campiglio. Perché poi il mondo della montagna è abbastanza piccolo, ci si conosce tutti. Non dico che è un piccolo paese, però, credetemi, alla fine le voci corrono, la gente parla. E se ti sei sempre comportato seriamente da Galantuomo, dando la disponibilità, come l'ho sempre data. Perché io, per esempio, verso la montagna mi sento di avere un debito di riconoscenza, e perciò anche verso Temù, che è in montagna. Perché la montagna, professionalmente parlando, a me ha dato tanto. Io credo di aver dato tanto alla montagna, in 45 anni, partendo dai primi anni, quando gestivo gli impianti di Temù. Tante lacrime, tanti sacrifici, ma anche tanta bella esperienza, e da lì sono partito nel fare tutto un percorso professionale. E quando mi coinvolgono, come un paio di mesi fa all'Università di Edolo, per tenere un confronto, un dialogo, un insegnamento che questi giovani mi chiedevano di avere, l'ho fatto volentieri, lo faccio volentieri, perché ogni tanto vengo chiamato a fare questo, ma proprio perché sento questo debito di riconoscenza verso la montagna. Perciò, se torno ancora a sollecitare, vedo che in fondo c'è qualcuno che si muove. No? Sì? Dopo arrivo. Ah no? Arrivi subito o mai più? Io dopo. Ah, allora, Giuseppe? Dopo. Dopo. Egidio? Parla qui, perché altrimenti la telecavano non ti sente. Allora, buonasera a tutti. Se sarete eletti, mi auguro che al primo consiglio comunale, no, cambiate lo statuto comunale, togliendo i prosindaci. Non ci sono? Non ci sono, no. Si è arrivato tardi. Sono allo statuto. Ah, noi l'abbiamo detto. Sì, voi non li avete. Ah, ma io dico per tutti. Nel primo consiglio comunale, eliminare i prosindaci. Se sarete eletti. Certo. Se sarete eletti. E poi, una cosa ai consiglieri. Mi auguro che non fate, diciamo, la fine dei consiglieri dell'ultima passata amministrazione. Bravo! Che in sostanza no, quando c'era da chiedere qualcosa direttamente ai consiglieri, venivano sempre giù dal mondo, dalle nuvole. Mi auguro che non fate quella fine che hanno fatto i consiglieri precedenti. E soprattutto che non si prometta cose che poi non vengano realizzate. Perché ai prosindaci, specialmente il prosindaco, quello di Molina, che sembrava che era il braccio destro di Pasina Giuseppe, dove si è interessato delle due questioni più importanti, la Sosvald e la centralina, la fabbrica del futuro, per quanto riguarda come prosindaco di Lecanù, non abbia realizzato niente. Adesso, se vince le elezioni, fa il prosindaco di Temù, vorrei capire cosa possa realizzare. Non è stato capace di realizzare niente a Molina. Cosa deve realizzare a Temù. Ma poi, la cosa più importante è che chi è votato deve essere interessato a realizzare quello che poi si fa. E che non debba essere sempre il sindaco a rispondere per i consiglieri. Allora, Egidio, se saremo eletti, abbiamo fatto anche tutte le sere un corso di galateo. E perciò credo che tutti quanti abbiamo imparato, nel galateo, nel buon comportamento, tenendo presente che quando ti siedi in un consiglio comunale, tu rappresenti la cittadinanza di Temù. E il comportamento, e il modo di porsi, e il modo di parlare, hanno il loro peso. Perché hai delle precise responsabilità verso tutti i cittadini. Perciò stai tranquillo che Cagnara, da parte nostra, non ce ne sarà mai. Giuseppe, non vedo altri. Buonasera a tutti. Allora, io devo solo ricordare due cose di comportamento da parte di questa lista, di come è nata questa lista. Non ho problemi a dire che io sono uno di quelli che è partito deciso per fare questa squadra, per fare questo incontro, confronto con il gruppo Fogliaresi. Non ho problemi a dire che non è vero. Io quando abbiamo visto il comportamento da parte del mio vice sindaco, del mio assessore e della Lunghi e di Tomasi che orchestrava la cosa, quando sono arrivati in consiglio comunale a mettere nero su bianco che il sindaco e tutti gli organi del comune stavano gestendo un malappare e l'hanno messo verbale, io lì ho deciso di rimuovere l'assessore, il vice sindaco, Corrado e la Daniela. Non come ha detto la Daniela alla sua riunione a Villa, che non ha nemmeno il coraggio di dire perché ci hanno sfiduciato. Sono stati sfiduciati dal sindaco dopo aver messo verbale su delibera di giunta che il sindaco e il segretario stavano conducendo un malappare. Queste dichiarazioni qua da parte di questi consiglieri di maggioranza e del vice sindaco e dell'assessore rimangono scritti perennemente sulle delibere comunali. Quando si sa bene che non era vero, quando il segretario e il ragioniere hanno sempre fatto il loro dovere e non erano assolutamente a servizio del sindaco. Loro hanno fatto il lavoro, quello che dovevano fare, e l'hanno sempre fatto in un modo autonomo di come lo devono fare. E questo è quello che mi ha dato più fastidio di tutto. Poi sentendo la riunione di questa sera, Corrado non ha nemmeno il coraggio di dire «Sì, io sono tre anni che sto andando a pagare cene, sto cercando di distruggere la minoranza». È tre anni che lo sta facendo a pagare cene ai due che ha imbarcato sulla sua lista perché il suo disegno era quello di fare una lista unica a Temò. Perché l'obiettivo era, tramite questi due, voleva convincere e essere certo che avrebbe preso anche il capogruppo Fogliaresi. Fogliaresi è stata una persona onesta, sincera, e ha risposto a tutte le sue richieste da parte dei suoi elettori. Quando è venuto da me, lui e Walter, per cercare di fare l'accordo politico, non in ciuccio come qualcuno dice, ma io ho affrontato con Fabio Fogliaresi, con Walter, ho detto «Se vogliamo vincere le elezioni come Temò, dobbiamo fare l'accordo politico, dobbiamo fare una lista unica a Temò. Io sul piatto metto una cosa sola, che io non mi ripresento più. Voi dovete dirmi, se siete d'accordo di voler vincere le elezioni a Temò e convincere tutti a votare la nostra lista, dobbiamo farla unica. Io vi garantisco la mia lealtà e troveremo il candidato sindaco, senza problemi, assolutamente. Non puoi farlo te, Fabio, perché altrimenti sarebbe di parte. Vediamo di trovare un sindaco fuori dalla mia schiera e fuori dalla tua schiera. Cerchiamo una persona nuova che ci garantisca che sarà il sindaco di tutti. Abbiamo valutato due o tre cose e siamo arrivati su Bosco. Bosco, il primo momento, gli aveva già detto che non si impegnava perché non voleva entrare in queste liti, perché lui era convinto che se gli diceva di sì solo a loro sarebbe stato comunque una divisione del paese, lui mi ha detto se non c'è la richiesta da parte dei cittadini, io non mi candido perché io non devo difendere gli interessi di nessuno. Io voglio fare il sindaco, faccio il candidato sindaco e sarò il sindaco di tutti, del tuo gruppo, del gruppo fogliarese, eccetera. Ci abbiamo pensato tre giorni su questa posizione qua. Dopo tre giorni il capogruppo di minoranza viene da me, accompagnato sempre di Walter, ma assolutamente non abbiamo fatto nessun inciuccio, nessune robe nascoste, ma abbiamo detto va bene, facciamo la lista unica a Temù, dobbiamo vincere le elezioni. Giuseppe, chiedi a Bosco se lui sarebbe disponibile a queste condizioni. Io ho chiamato Bosco immediatamente lì in presenza di loro, gli ho detto Franco, se facciamo la lista unica a Temù tu saresti disposto a venire? Lui mi ha detto ma ora Giuseppe cambia la vita? Ma te, papà, papà, tutte le robe che la mia forna mi sbattì di fuoco, da qua e tutte le robe che e gli ho detto però Franco qua non puoi non accettare perché sarei lui. Lui mi ha messo una condizione. Allora venite un gruppo di cittadini di Temù a chiedermi e io valuterò eccetera. Questo era il lunedì, il sabato ho convocato ho convocato un po' di cittadini a Vezzadoglio eravamo in 28 e lì gli abbiamo chiesto a Bosco di candidarsi e tutti gliel'hanno chiesto tutti questi metà di questi erano lì in dubbio si entro in lista no non entro in lista ma 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 dal primo momento la nostra parola d'ordine qual era qual è stata ricordatevi però che se accettate di entrare in lista dobbiamo essere un gruppo coeso tutto d'accordo è il nostro garante di tutti chi è Francesco Bosco il sindaco quindi non inventate storie su posizioni e non posizioni perché qualcuno già in quella sera aveva detto ma voi cosa pensate il candidato sindaco penserà il comportamento di questo gruppo di quello che vogliamo fare di quello che vogliamo cambiare ma soprattutto io vi dirò quello che ho in mente e come gestiremo la cosa pubblica di Temù nessuna promessa a nessuno e qua ci sono tutti nessuna promessa nessuna discussione ma cosa faremo ma eccetera 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 nessuno ha parlato siamo rimasti solo d'accordo qualcuno a dire va bene io accetto qualcuno e lasciami pensare domani o dopo domani ma questi candidati nel giro di un giorno e mezzo hanno risposto tutti va bene la lista Bosco va bene quanto abbiamo parlato va bene quanto siamo d'accordo senza ambizioni personali ma solo di mettersi assieme per gestire la cosa pubblica di Temù passo un altro punto è facile Corrado che vada a dire in giro che negli ultimi anni non abbiamo fatto niente e compagnia bella qualcosa abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto dobbiamo solo dirlo in un modo chiaro che Corrado non voleva quelle robe che volevamo andare in avanti a partire dall'illuminazione alla chiusura della Sosvav alla chiusura delle centraline alla centralina delle Canù lui non le voleva non voleva che io appressi questo scatolone dall'inizio io l'ho aperto perché se vi ricordate nella mia campagna elettorale il primo punto era di mettere a posto le casse comunali e le casse comunali le ho messe a posto perfettamente perfettamente dopo cinque anni nonostante che i miei assessori il mio vice sindaco Corrado così votavano tante volte contro non erano d'accordo che io prendessi gli avvocati per portare a casa i soldi della SIG perché era una vergogna che io denunciavo con il legale una nostra partecipata non erano d'accordo sulla centralina perché portare sulla SOSVAL perché metteva in repentaglio la vita della SOSVAL è dimostrato che nonostante la mia iniziativa nonostante che abbiamo messo a posto tutta la vicenda SOSVAL abbiamo riportato ho riportato la SOSVAL in mano al comune di Temù non alla fondazione Valle Camonica i giochetti che Corrado faceva eccetera quando quando dopo io parlo anche di quello che sarà in futuro io non per niente ho detto che io mi tolgo da questa da questa vita politica eccetera io sarò vicino garantirò il mio pieno appoggio andrò dai miei amici a sollecitare il voto senza problemi perché io non ho paura a entrare nelle case e io chiederò il voto compatto sulla lista Bosco andrò a chiedere le mie preferenze a livello europeo ma chi se ne frega questa io ho sempre fatto questo ma io qua lo dico questa lista deve vincere perché sarà il cambiamento di temore sul comportamento sull'onestà e basta giochi sotto banco che dopo deve pagare deve pagare la comunità perché è l'ultima perché ora è tempo di finirla che la politica di Corrado Tomasi grande iniziatore grande tutto ma ricordatevi che Tomasi non ha mai chiuso una cosa andiamo a vedere adesso sulle isole ecologiche se aprite il capitolo isole ecologiche scoprite la politica di Tomasi qual è si parte da 10 e si arriva a 100 la SOS ma era partita un sistema è arrivata l'altra le centraline è partita un sistema e l'altra quanto detto stasera al confronto sul domani è sciabile non è stato Corrado a portare gli impianti a Temu non è stato Corrado a portare perché io non ho problemi a dirlo che se noi non avessimo avuto in quel periodo lì i nostri due santi protettori di nome Nicoli Franco e Pormigoni Roberto che ha spostato i loro interessi che avevano in Valtellina li hanno spostati in Valle Camonica noi gli impianti non li avremmo fatti perché i simi stronzi i sini stronzi di Bezzi e Corrada quelli lì non hanno mai avuto accesso alle porte in regione mai nemmeno nei cinque anni che ha fatto che ha fatto da consigliere regionale cosa ha portato in cinque anni di consigliere regionale zero perché loro vanno e partecipano in regione solo per la fortuna che avevano gli amici del centro-destra e certissimamente non sono loro eravamo qualcuno e qualcun altro ecco perché io dico che adesso bisogna cambiare quello che ha detto Bosco due minuti fa è stato il primo ragionamento che abbiamo fatto all'incontro a Vezzadoglio tra noi 28 di riportare la funzione del consiglio comunale non una pagliacciata come l'hanno fatta loro come l'hanno gestita loro a ridere e a fare tutti gli imbecilli ma sarà una sede seria che deve rappresentare la serietà dei punti di legno Pasina no no Pasina Giuseppe nonostante quello che dicono che non ha mai ha rotto con punti di legno Pasina Giuseppe non ha rotto né con punti di legno né con l'alta valle eccetera Pasina Giuseppe ha solo cercato di riportare il peso all'interno dell'unione dei comuni e a ponte di legno il comune di Temù perché prima di tutto il sindaco nostro deve tutelare gli interessi al di sopra degli altri del comune di Temù questo è il dato di pace e Bosco questo lo farà allora vi ringrazio per l'attenzione e la presenza dovrebbe essere l'ultima volta che ci troviamo la prossima volta ci troviamo noi faremo una dichiarazione di voto faremo un'altra assemblea il 2 però non sarà un'assemblea aperta pubblico e compagnia bella sarà un intervento televisivo dove faremo un intervento molto piccolo stringato una sollecitazione al voto e ci dovrete sopportare un'altra volta attraverso teleponte di legno grazie a tutti e buona serata grazie